In una terra baciata dalla passione, il mito si rigenera. Mirella Pipia. Preziosità barocche, sapienza arcana, tripudi di sole e di azzurro. Mirella Pipia. Ceramiche artistiche eseguite rigorosamente a mano, anche su commissione. Laboratorio in corso Baldassarre Scaduto 67. Nuovo punto vendita in via Domenico Sciortino 8 a Bagheria. www.mirellapipia.it